Il gruppo del Partito Popolare ha voluto ancora una volta evidenziare che c'è uno stato di emergenza rispetto a cui l'Unione Europea deve assolutamente intervenire. Siamo stati i primi a proporre una modifica dell'ordine del giorno con un titolo che è stato poi successivamente rivisitato nella formulazione, a dimostrazione che probabilmente alcune forze politiche ancora una volta sono più attente alla forma che piuttosto alla sostanza. Noi siamo convinti che c'è bisogno di un intervento concreto, altrimenti rischiamo di perdere una credibilità. L'Europa sta lanciando tante sfide che evidentemente sono tutte importanti, ma tra queste crediamo che si debba concretamente inserire nell'agenda una soluzione concreta a quelle che sono le emergenze che solo alcuni Stati, ripeto, solo alcuni Stati, tra cui l'Italia, stanno affrontando. Non c'è sfida così importante che possa essere raggiunta da un solo Stato, che si chiami Italia, che si chiami Malta o che siamo in qualsiasi altro modo.